Si è dimesso l'assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici del comune di Cerignola, Tommaso Bufano, nella lettera recapitata questa mattina al sindaco Franco Metta, le ragioni del suo disimpegno, collegate come prevedibili all'inchiesta della Guardia di Finanza che lo vide indagato. E lo stesso Bufano a spiegarlo nella missiva indirizzata al primo cittadino, in cui manifesta l'esigenza di sentirsi libero di difendersi nel procedimento penale e di evitare strumentalizzazioni che possano ostacolare l'amministrazione comunale. Una decisione dalla quale l'ex assessore non intende recedere, almeno sino a quando non gli verrà riconosciuta l'assoluta estraneità ai fatti che gli sono contestati, sui quali al momento poco o nulla è trapelato. Lo scorso 18 dicembre la Guardia di Finanza operò delle perquisizioni domiciliari presso le abitazioni di Bufano e del dirigente ai lavori pubblici Clorindo Izzillo. Fu il sindaco Metta a rendere noto l'operato delle fiamme gialle e l'esito negativo delle perquisizioni, ribadendo piena fiducia nel suo assessore e nel dirigente comunale. Il primo cittadino non esitò a definire frutto di infami calugne le lettere anonime che avevano dato origine alle indagini. Pare che i finanzieri fossero la ricerca di prove che configurassero il reato di concussione, ma c'è stretto riservo sull'evoluzione dell'inchiesta, che evidentemente prosegue non mancando di alimentare anche la discussione politica. Le dimissioni dell'assessore Bufano sono un fatto politicamente sconcertante, ha commentato il consigliere del PD Daniele D'Alessandro, trattandosi dell'assessore più importante e politicamente rilevante dell'aggiunta Metta. Pur ribadendo la sua posizione garantista, l'esponente PD ha evidenziato un quadro politico non chiaro, caratterizzato da procedure amministrative a limite, in una città attraversata da un serissimo problema di legalità e sicurezza che imporrebbero non al singolo assessore, ma all'intera giunta, una posizione di irresponsabilità e un atto di dimissioni collettive.